Si avvicinano sempre più le amministrative 2020, si presenta la vostra lista civica Arezzo Cistà, chi siete? A Arezzo Cistà siamo un gruppo di giovani tra i 18 e i 30 anni, che oramai sono mesi che ci riuniamo e che ci siamo presi, questo come occasione per dare il nostro contributo per la città. Ci siamo incentrati non per voler parlare di tutto, ma su quei temi che anche, viste le nostre esperienze di studio, di lavoro e di associazione, sentiamo più vicini. Il vostro sarà un sostegno al candidato sindaco di centro-sinistra? Sì, abbiamo fatto le nostre valutazioni, abbiamo portato anzitutto le nostre proposte e abbiamo trovato accoglienza e disponibilità appunto nella coalizione di centro-sinistra. Ecco, le situazioni più urgenti da risolvere secondo voi quali sono? Allora, anzitutto c'è da ricostruire il tessuto sociale delle periferie, che sono veramente una bomba a orologeria e poi da ripensare veramente a una città Arezzo a lungo termine, non nel giro di pochi anni e quindi impostare politiche non solo ambientali e di tutela del territorio, ma anzitutto culturali e anche in questo senso di innovative, di lavoro, che guardino veramente all'Arezzo dei prossimi dieci anni. Ecco, Arezzo ci stai pronta a presentarsi alla città? Quando lo farà e con quale iniziativa? Sì, noi faremo un'iniziativa il 7, venerdì sera, dalle 19 al centro-dentro in zona Pescaiola e sarà un momento di dialogo, di confronto con le associazioni che abbiamo chiamato e con tutti i cittadini appunto per presentarci poi come lista civica. Ecco, possono ancora aderire i cittadini alla vostra civica? Sì, esattamente, perché questa iniziativa di venerdì si chiama appunto quota 21, perché 21 è il numero da raggiungere per poter presentare una lista autonoma e quindi che possa sviluppare un proprio percorso.